Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Proseguono le ricerche di Giacomo Bozzoli. L'uomo, condannato per aver ucciso lo zio, è ricercato in tutto il mondo. La sua latitanza dura ormai da giorni. La procura in questi giorni ascolterà la compagna e il figlio di 9 anni, che nel frattempo crolla in lacrime. Bozzoli è ricercato in tutto il mondo. La polizia è sulle sue tracce, ma al momento non sappiamo dove possa essersi rifugiato. Nel frattempo la procura ha ascoltato la compagna e presto ascolterà anche il figlio, che nel frattempo è scoppiato in lacrime. La procura ha ascoltato la compagna di Giacomo Bozzoli, Antonella Colussi, che ha dichiarato. Ho cercato in vano di convincerlo a costituirsi, poi le nostre strade si sono divise. E non ho idea di dove sia Giacomo. Dopo l'interrogatorio di Antonella Colussi, presto toccherà al figlio di 9 anni. Il piccolo, che appena tre giorni fa ha festeggiato il compleanno, adesso chiede in continuazione del padre, spesso scoppiando in lacrime. Il bambino però potrebbe non essere in grado di fornire coordinate e riferimenti spazio-temporali precisi in relazione al viaggio all'estero. Ma allo stesso tempo potrebbe fissare e riportare i momenti insieme al padre, rendendoli più certi.